lo conoscete come scrittore io mi permetto umilmente di dargli un'altra definizione di cantastorie è Alessandro D'Avenia che è venuto a raccontarci una cosa bellissima che è l'amore ma voglio fare una premessa, non vi lasciate influenzare dallo sguardo angelico, dal volto angelico di Alessandro D'Avenia perché l'amore che raccontiamo noi non è quello delle favolette, non è quello del vissero felice e contenti è l'amore che probabilmente tutti noi ci cuciamo addosso per fare questo il nostro cantastorie sceglie figure di donne, sceglie di raccontare l'amore attraverso l'universo femminile in un libro che state vedendo in questo momento in copertina che vale la pena raccontare Alessandro, sanno amare solo le donne e gli uomini no? o perché parlare d'amore attraverso le donne? guarda, parto proprio dalla copertina che è il frutto del genio femminile perché io ho una sorella architetto che fa la fotografa a cui chiedo di immaginare quello che può rappresentare le mie parole lei non sa niente del libro, le racconto qualche accenno e poi lei fa la sua ricerca come io faccio la mia ricerca con le parole e Marta ha tirato fuori questa immagine in cui c'è questo gomitolo che snoda questo filo rosso che in qualche maniera rimanda al grande mito di Arianna Teseo deve affrontare il labirinto che molti altri ragazzi hanno dovuto affrontare ma sono morti perché al centro del labirinto c'è il minotauro e mi sembra un'immagine bellissima di questa grande promessa di vita che noi abbiamo che però poi ci obbliga in qualche maniera a entrare nel labirinto e a doverlo affrontare e a dover affrontare alla fine del labirinto le nostre più grandi paure chi ha preceduto Teseo è finito male ma c'è una donna che è innamorata di lui che è Arianna che inventa questo stratagemma che è frutto del genio femminile di un amore che sa proteggere anche a distanza ma non esime l'uomo dalla sfida di entrare nella realtà e quindi inventa questo gomitolo che lui dipana mentre entra nel labirinto e sa che il labirinto può essere complesso quanto si voglia è comunque legato a chi ne tiene l'altro capo allora mi sembra che l'amore sia questo nostro futuro anteriore qualcosa che in qualche maniera ci precede come grande promessa ma è tutto da fare non ci esime dall'esplorare il mondo allora non è importante quanto la vita possa essere oscura complessa, tenebrosa ma quanto lungo e forte sia questo filo che ci lega a una relazione capace in ogni istante anche nel più buio di generarci e rigenerarci in ogni istante anche nel più buio questo lo ho noto e lo sottolineo con il pennarello perché è una condizione importante per questo libro Alessandro non hai attinto alle storie belle perché lì è molto facile raccontare lo zucchero dell'amore il miele hai attinto a storie in alcuni casi tremende storie per alcuni casi anche oscure storie di uomini anche che hanno sfruttato le donne sono diventati famosi grazie al sacrificio delle donne e questo ti rende anche onore ti rende estremo realismo nei confronti dell'amore come fa a salvare l'amore anche in storie così tremende che purtroppo sono quelle più frequenti che ascoltiamo oggi? il libro si apre su questa domanda che mi rimbombava in testa arrivato a 40 anni mi sono detto Ale ma che cos'è che nella grande navigazione della vita se la tua nave dovesse fare naufragio tu devi buttare via e cos'è che invece ti salverebbe? proprio usando la parola l'amore salva questa domanda con l'essenziale qual è la scialuppa che mi consentirebbe di non far naufragio? senz'altro la risposta è è l'amore noi lo sappiamo che questa grande promessa che ci è data è quello che porta luce nella quotidianità nella ripetitività dei nostri giorni nella noia, nei fallimenti però poi sembriamo non essere all'altezza allora dove ci siamo persi? a quale bivio ci siamo persi? se sappiamo che questa è la grande promessa perché poi non ne siamo all'altezza? allora mi sembra che da un lato dobbiamo guardare l'amore così come è diventato e ci sono questi due vicoli ciechi in cui ci siamo andati a ficcare da un lato l'amore romantico in cui l'altro è una specie di Dio che mi salverà non si sa bene per quale ipotesi assurda coprirà tutti i miei buchi, tutte le mie difficoltà tutti i miei fallimenti e invece sappiamo bene che quando inizia una storia d'amore è la vita che ti si complica non certo ti si semplifica dall'altro c'è l'amore cinico che è il polo opposto ma uguale in cui sono io il Dio per l'altro e l'altro lo utilizzerò finché questo adoratore mi serve poi se trovo un altro adoratore più funzionale non quello è per noi esattamente le 36 storie di donne che io ho scelto sono state scelte sulla base dei miei amori letterari quindi gli autori che ho letto in questi anni di lettura e che ho amato altre le ho scoperte invece facendo la ricerca del libro e quello che mi è piaciuto è vedere come c'è questo ventaglio fatto di 36 storie in cui i due poli che si vanno a configurare non sono quello dell'amore romantico o dell'amore cinico ma quello dell'amore o del disamore cioè da un lato delle relazioni liberanti e rigeneranti perché? perché la donna entra nel territorio di quest'uomo sono tutti uomini che hanno a che fare con l'arte poesia, musica, letteratura, quello che sia e colgono che quello è il destino principale di quell'uomo e senza perdere la propria identità portano la relazione a migliorare sia se stesse che l'uomo rispettando quella vocazione dall'altro lato c'è il disamore che è il polo opposto quello in cui si ritiene l'altro un oggetto d'amore del proprio possesso di cui si vuole avere il controllo e nel caso in cui sia l'uomo a prevalere viene svuotata la donna da dentro e ne rimane solo un simulacro storie terribili come quelle di Sylvia Plath che finirà i suoi giorni mettendo la testa dentro un forno dopo aver preparato per i due figli la colazione in maniera perfetta quindi, come dire, questa vita quotidiana questa vita poteva essere un'altra cosa e non lo è stata è il gas che mette fine a una grande promessa che poi non si è realizzata dall'altro invece storie belle come quella di Nadieshda Mandelstam quella quale ci fermeremo tra poco che non solo salva la carta del marito e vedremo perché ma anche la sua carne cioè si fa custode del destino di quest'uomo e non per questo si sente sminuita anzi, sa che la sua vita è grande proprio per questo quindi ci sono 36 tasselli che vanno a definire ciascuno in maniera diversa, comica, drammatica, tragica che cos'è l'amore in base al genere letterario che scegliamo Alessandro, l'amore può diventare disamore all'interno di una stessa storia? Assolutamente sì, il disamore è proprio quel servirsi dell'altro come oggetto mi dice sempre mia madre guarda, l'amore vero è quello in cui alla massima appartenenza corrisponde il massimo della libertà una volta mi raccontava questo io dicevo, mamma senti, sì, ok, ma è così difficile come avete fatto voi due, 52 anni e dice, guarda, è come la dama tre regole devi andare sempre avanti devi fare un passo alla volta ma sappi che quando arrivi fino in fondo sei libero di muoverti come vuoi allora io quando vedo loro dopo 52 anni di matrimonio non vedo due persone che si sopportano o due persone che ormai si sono abituate a vivere insieme vedo due persone che litigano perché i loro punti di vista si sono inaspriti non è che sono diventati meno non è vero che sono diventati più morbidi no, no, assolutamente ma proprio per questo devo dire che questa tra l'altro è anche la magia di questo libro l'estremo realismo io invito a casa a fare riferimento a questo ma un minuto dopo sono disposti a donarsi di nuovo proprio questa identità forte facendo un passo indietro e quindi ecco che tutto l'universo è costruito siccome viene da una relazione Dante direbbe l'amor che muove il sole e le altre stelle e lo vediamo nelle cose più quotidiane un bicchiere d'acqua e H2O funziona perché due atomi di idrogeno vengono dati all'ossigeno l'ossigeno è da uno le relazioni che funzionano le storie d'amore che funzionano sono quelli in cui uno dà all'altro ciò di cui l'altro ha bisogno che cosa qual è una storia che funziona secondo te visto che tu hai parlato di amore anche in storie dove apparentemente amore non c'è guarda te lo racconto con intanto facciamo un passo indietro io parlo di storie d'amore di coppia ma quello che mi interessa è riguardare dentro la relazione così com'è qualsiasi tipo di relazione, quale base deve esserci perché una relazione sia generante e rigenerante è appunto quella relazione che ti rimette al mondo ogni volta che tu nasci al mattino in qualsiasi storia, narrazione che cosa accade? accade che c'è un personaggio che è un'anonima comparsa all'inizio di una narrazione che concepisce, è chiamato da un oggetto del desiderio e diventa allora protagonista di quella storia la parola protagonista a me piace molto perché è una parola antica che indica colui che è il primo combattente colui che si mette in prima fila a combattere e perché noi combattiamo per qualcosa? perché siamo convinti che quell'oggetto del desiderio, quella chiamata ci porterà a un'altezza che ci precede ma che ancora non abbiamo ed è sempre l'amore a fare questo lavoro un verso bellissimo di un poeta che amo dice tutti gli amori lavorano in incognito per Dio anche quelli che sembrano più complessi farci perdere un po' per strada allora quello che mi interessa è proprio questo riuscire a capire come la nostra vita diventa la storia di un protagonista che lotta per essere all'altezza di questa chiamata noi la dobbiamo smettere di confondere l'amore con la sicurezza abbiamo sostituito il termine salvezza con il termine sicurezza la sicurezza non c'entra niente con l'amore l'amore non è una cosa rassicurante è una cosa che ci mette alla prova, che ci sfida ogni giorno ma solo così potremo portare una luce in quella penombra del quotidiano fatto di cose ripetitive perché c'è sempre una sfida a trascenderci, a superarci e questo avviene solo quando noi siamo disposti a vedere nell'altro quel qualcosa di sacro di fronte al quale mettersi al servizio e mi sembra che questo sia l'amore che ci è stato raccontato da qualcuno allora o questa è una gran fesseria ed è un grande inganno è un idealismo irraggiungibile o questa cosa è vera a me sembra che sia vera tutte le mattine io faccio l'insegnante quando formulo l'appello dei miei alunni sono guarito da un'idea di insegnamento in cui ero io il protagonista in classe a un'idea in cui invece li guardo in faccia e dico ecco, questi sono i 20 strumenti che servono a fare questa polifonia del mondo e ciascuno di loro è necessario io che sono il direttore di orchestra sono al servizio del grande spartito che non ho scritto io e loro sono gli esecutori allora diventa un gioco in cui tutti vincono la musica, gli strumenti e chi dirige l'orchestra Ale, Dio è così necessario a cementare l'amore è così davvero indispensabile perché questo sia veramente amore allora io racconto storie in cui c'è tutte le tonalità non è un caso che chiuda su tre storie quella di Tolkien, quella dei Fellini e quella di Cortázar che hanno visioni molto diverse perché Cortázar e la Dallop furono una coppia con una visione dell'amore totalmente immanente mentre Tolkien e Edith avevano questo slancio trascendente questa luce chiarissima quindi c'è un dato chiaro da un punto di vista strettamente umano noi abbiamo le capacità e sappiamo che l'amore è l'unica cosa capace di svincolarci dal tempo e di vincere il tempo quella bellissima frase del Cantico dei Cantici che l'amore è forte come la morte anche lì o è letteratura o è vera noi che crediamo in quelle parole dobbiamo sempre avere la pretesa di che sia vero allora andiamo a verificare se poi questo accade e quello che mi è piaciuto scoprire è che ci sono persone che realizzano questo riescono a sconfiggere il tempo da dentro il tempo a trascendere il tempo quindi in qualche maniera addirittura a fare dell'amore qualcosa di più forte della morte anche se non hanno questo sguardo trascendente ma questo amore qui apre a quello sguardo vatti a leggere le pagine di Cortasare della Dallop che passano questi 33 giorni meravigliosi e lui arriva a dire grazie a questo scoperto che l'amore non può che essere per sempre un uomo che aveva un'idea totalmente immanente della realtà e quindi c'è un'apertura quindi è chiaro che quando noi arriviamo alle porte estreme dove l'umano può portarci con questa grande meravigliosa avventura e faticosa dell'amore ecco che lì se bussiamo ci aprirà la porta quell'amore che veramente è il per sempre che abbiamo desiderato l'amore umano vero porta quei due a bussare a quella porta non a chiudersi ma ad aprirsi insieme a arrivare oltre fa paura così tanto il per sempre perché oggi tu pare di insemprirsi un'espressione bellissima perché il suffisso in è indispensabile all'amore il per sempre oggi perché fa paura perché lo confondiamo con la grande illusione romantica che l'amore sia qualcosa che una volta che è cominciato è accaduto andrà fatalmente avanti come un destino cieco e tutto andrà bene col cavolo perdonateci ma è per chi ha fatto una scelta per sempre è proprio questa la difficoltà io quello che ho visto vedo fare dei miei genitori questo è che l'amore è un'officina aperta 24 ore su 24 e che per sempre significa ogni 24 ore a me è sempre piaciuto quel passaggio di un realismo estremo del Vangelo in cui ci viene detto non vi preoccupate per il domani perché ogni giorno ha la sua pena no? e allora uno dice ma che visione un po' così terra terra della vita ma a me invece sembra di grande realismo perché? perché quella parola pena nell'originale indica ferita cioè ogni giorno ha una ferita da curare c'è qualcuno accanto a te su cui ti puoi chinare e questo in qualche maniera stranissima riscatta quella ferita e cura anche te allora mi sembra che questo per sempre poi non sia facile da vivere perché noi non siamo più disposti a realizzarlo nelle 24 ore e questo appunto è un'officina aperta Ale io ti chiedo due storie quella di Federico e Giulietta che c'è abbastanza familiare e l'altra di quella strepitosa figura di donna che è Nadesda moglie di un poeta sopravvissuto grazie solo a lei poi scopriremo perché ma una cosa me la devi concedere parli di donne alle donne attribuisci anche forse questa è la mia impressione la lettrice la responsabilità dell'apertura di questa sala cinesca di quest'autofficina ed è una cosa tremendissima questa lo sai perché noi siamo abituati a pensare che la fatica di un amore si porti in due questo vuol dire che se tanti matrimoni tante storie falliscono è anche colpa della donna paradossalmente è una provocazione tremenda alla quale questa è una rete che ti sto lanciando adesso vedi tu come come riuscire ad uscire sì sì è questo il tuo pensiero allora intanto il libro mi è servito a ridefinire a ridirmi qual è il genio femminile nella storia della salvezza mi sembra che la donna sia stata creata per ultima e non come ci vuole far credere un femminismo becero perché sia appunto qualche cosa di così che viene alla fine ma perché nell'economia del racconto orale ciò che si fa per ultimo è la cosa più perfetta non è un caso che è da lì che si passa per distruggere la bellezza della creazione cioè fregare Adamo non ci voleva niente il problema era fregare Eva quando Dante quando Dante racconta nella Divina Commedia che Lucifero è la fonte di tutti i mali del mondo sai che cosa dice? che è la fonte del male perché lui era la creatura più bella e quando tu corrompi la creatura più bella il male entra nel mondo allora ridare dignità al genio femminile mi sembra questo ridire alla donna guarda che tu hai una responsabilità di bellezza che è poi una responsabilità di amore noi uomini in qualche maniera questo lo impariamo nella reciprocità della relazione impariamo da una donna che è la cosa più seducente essere generosi intraprendenti affidabili non prenderci troppo sul serio perché io quando vedo come si comporta mia madre questo vedo e mi interrogo ma tu che uomo sei di fronte a tutto questo allora le due storie che tu mi chiedi di raccontare sono due tasselli di questo grande affresco amoroso che io provo a raccontare in tutto il libro da un lato questa vicenda quasi comica che sembra il finale di un film di Fellini in cui loro due Giulietta e Federico sono ricoverati in due ospedali diversi perché ormai siamo alla fine devono festeggiare il loro anniversario di matrimonio e che cosa fanno? scappano entrambi dagli ospedali e si ritrovano in un ristorante vicino Portapia a festeggiare come due fidanzati questi 50 anni di matrimonio e l'indomani lui toglie le tende e li rimproverano dice ma avete fatto un'assurdità gli dice no 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 ci siamo messi d'accordo lui va avanti e mi ha detto che quando la scenografia è pronta io lo raggiungo mi sembra come è bello raccontare questo tipo di amore questo volto dell'amore non limitarsi a tutt'altri pettegolezze e diceria Alessandro ti dobbiamo anche questo Nadejda invece ci porta nell'orrore del tempo che non capisce l'amore che non capisce e non rispetta il genio di un uomo suo marito poeta guarda la storia che forse ho amato di più raccontare in questo libro loro sono una coppia bellissima nella Russia di Stalin lui è il più grande poeta russo del ventesimo secolo che noi non conosceremmo se non grazie a lei ha un recital di poesie lui viene invitato a leggere ci sono gli occhiuti controllori del regime e lui sceglie una poesia su Dio con un'ingenuità che solo un poeta può avere perché quella è una condanna a morte lei alla fine della lettura dice ma perché fra le tante che hai scritto proprio questa e lui risponde con l'ingenuità e la forza del poeta perché è la più bella cioè sa che se avesse rinunciato alla più bella avrebbe rinunciato alla sua identità di poeta e non avrebbe cominciato a corrodere quel regime da dentro lei sa con il realismo delle donne che i poeti a volte non hanno si è firmato la condanna a morte esattamente allora cosa fanno cosa fanno cominciano a cambiare casa ma il regime li trova se lo porta via lo porta in un gulag lui l'unica cosa che può portare con sé guarda caso è la divina commedia perché stava imparando a leggere in italiano perché voleva leggere Dante in presa diretta lei che sa che il regime non distruggerà solo il corpo del marito ma anche la carta comincia a nascondere il baule con tutte le poesie del marito con tutte le carte del marito ma siccome sa che anche quello è un conto alla rovescia comincia a imparare a memoria tutte queste poesie sembra il finale di Fahrenheit 451 in cui ci sono gli uomini libro che devono imparare a memoria i libri pur di non farli sparire a un certo punto arrivano prendono il baule e distruggono tutte le carte questa donna riesce a scappare dal regime e a dettare le poesie del marito che ha imparato a memoria allora a me piace questa storia perché in qualche maniera racconta di questo grembo di donna che non solo genera la vita di un figlio ma genera la vita di tutte le relazioni che incontra così come ha fatto con suo marito ogni storia è una storia d'amore Alessandro? ogni storia è una storia d'amore perché se è vero come è vero che Dio è amore tutto quello che nella realtà accade ci sta portando a lasciarci amare di più e ad amare di più ma noi forse non sempre siamo disponibili a questo è sempre un piacere a me che Alessandro ci alziamo saccheggiatelo rubatelo mettetelo sotto l'albero di Natale ne vale la pena grazie Alessandro D'Aveni Monica grazie a te il mio medico grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te